Bene, siamo qui, Teatro Argentina di Roma, abbiamo con noi Roberto Gandini, regista di uno spettacolo che tra pochi minuti andrà in scena. Gandini è uno spettacolo decisamente particolare perché si realizza con 20 ragazzi, 20 ragazzi del vostro Teatro Gabrielli e si parla di disastri ambientali, si parla di purtroppo temi di stretta attualità tra cui anche i problemi ecologici, la corruzione, le guerre e i giovani rappresentano un po' l'ancora di salvezza. Perché Scappati di casa? Scappati di casa perché è una parola, una specie di ingiuria che dei personaggi adulti con questa ingiuria definiscono i ragazzi che hanno incontrato, però poi per una serie di circostanze, di intrecci della trama loro a un certo punto si definiscono Scappati di casa. E c'è una battuta finale che dice proprio, la protagonista guarda il pubblico e dice ma in fondo siamo tutti scappati di casa. E forse quindi in questo modo di dire c'è anche legato a dei ragazzi c'è anche un po' sottotraccia l'idea che tutti i ragazzi devono andare via da casa, devono scappare da casa perché se stanno nella bambagia, se stanno fra le pezze di mamma e papà forse la loro vita non comincia mai Forse anche per un desiderio di ribellione C'è e infatti io definisco questa storia una storia post-pandemica, cioè la sensibilità dei protagonisti di questa storia nasce ai tempi della pandemia e quindi nasce sia una difficoltà di comunicare, una difficoltà di provare le emozioni ma anche una rabbia di reagire a tutto quello che gli accade intorno magari anche in maniera incongrua, però è una reazione che credo che sia fisiologica e salutare 20 ragazzi, alcuni come da tradizione del vostro teatro sono ragazzi disabili in passato io pure ho assistito a degli spettacoli, delle scene, sembra che abbiano una marcia in più, è così? Guarda, io non lo so se... allora innanzitutto i ragazzi, il gruppo dei 20 ragazzi e ragazze sono, provengono sono in parte con l'esperienza del Piero Gabrielli, quindi sono dei veterani e altri invece sono sempre ogni anno delle new entry il Confaleonieri De Chirico per esempio è la scuola che dà più contributo a questa presenza delle scuole quindi il rapporto con la scuola per noi continua sempre anche attraverso il laboratorio ovviamente ci sono delle differenze enormi di fatiche che qualcuno fa, chi di più chi meno però poi anche in questa avventura che stiamo vivendo non è detto che quelli che hanno avuto problemi siano quelli con disabilità è un bellissimo messaggio che mandiamo anche agli insegnanti e forse anche a livello politico credo di sì perché nel fare il teatro a me piace dire che il teatrante guarda con un occhio utilitaristico guarda quello che c'è e cerca di capire quello che può valorizzare anziché di chiedere di uniformarsi a uno standard che propone o a un traguardo che ti do io io invece guardo quello che c'è che io posso sfruttare, che posso usare e cerco di organizzarlo in una storia quindi in un elaborato, in una comunicazione artistica questo attiva i ragazzi, questo lo beccano subito anche se non viene mai detto perché dice ah vedi quello fa quella cosa bella e lui la usa nello spettacolo quindi non è importante che io nasconda le mie debolezze è importante che io metta in luce quello che so fare meglio e ognuno propone delle cose e questo a volte riesce a volte no quindi queste proposte che arrivano dai ragazzi poi vengono organizzate in una storia che viene un po' scritta su di loro e quindi questo è ovvio che a quello che magari non ha delle difficoltà a parlare magari è bravo a muoversi, gli costruiremo un balletto e viceversa quindi è un work in progress potremmo dire assolutamente sì e si plasmano continuamente anche le storie che inizialmente vengono assolutamente la sceleggiatura cambia fino all'ultimo che differenza c'è nel lavorare con i ragazzi rispetto agli adulti? guarda, nei ragazzi c'è più entusiasmo quando la maionese monta però c'è il problema di farla montare nel senso che devi costruire e mantenere la motivazione perché arrivano, non li conosciamo i ragazzi specialmente adesso sono più dipendenti dai device magari quindi fanno più fatica ma nel momento in cui sono dentro non c'è il professionista che abbia il loro entusiasmo e la loro voglia di esserci di essere felici, di essere felici con se stessi e con gli altri e questo penso che sia bellissimo teatro però non decolla nelle scuole vanno avanti dei progetti progetti che singolarmente ogni scuola porta come abbiamo detto insomma qua a Roma col teatro Gabriele si realizzano dei rapporti di collaborazione annuali che ormai da diverso tempo però che messaggio possiamo mandare alle scuole agli insegnanti per insistere sul teatro perché diventi stabile questo rapporto? guarda io credo che noi innanzitutto secondo me il teatro deve essere fatto da professionisti perché noi non penseremo mai di fare insegnare informatica e invece sia da parte delle scuole ma anche dei teatranti che a volte lo fanno come un ripiego cioè che va bene anche alternare il palcoscenico con la didattica però deve essere anche un piacere cioè se il teatrante lo fa solo per la pecunia non va bene come se è un insegnante che magari fa perché così vuole mettersi in mostra rispetto agli altri colleghi questo non funziona perché i ragazzi leggono e recepiscono se sei autentico o meno se te la racconti o se ci sei se tu non sei appassionato puoi fare tutti i discorsi del mondo e per un teatrante è difficile tutte le volte reinventarsi la passione perché non può essere finta non può essere in default non può essere una cosa che io prendo e vado in automatico tanto no perché lì è la volta che sbaglio cioè io devo trovare per me che faccio questa cosa un obiettivo reale di passione anche una cosa un po' difficile da ottenere e in questo mi ci vuole molta passione molta perseveranza per ottenerlo l'integrazione lo sa benissimo chi fa la scuola non è una cosa facile non è che dico parola integrazione come fosse sin salabime e la stessa cosa è il teatro cioè non è che se ci mettiamo lì a fare il teatro questo accade Gandini l'ultima un ragazzo che inizia con voi un percorso teatrale rimane uno o più anni quanto esce rafforzato e in cosa? Io credo tantissimo nell'autostima a me piace pensare a una parola che è coraggio che non vuol dire non avere paura vuol dire la gestione della paura il coraggio ma anche l'allenamento alla capacità empatica per cui siccome mi metto nei panni di un personaggio posso mettermi anche nei panni di un adulto o di un compagno quando non riesco ma perché lui è aggressivo per esempio quindi magari mi metto nei suoi panni e forse lo riesco a leggere io penso che questo sia il grosso insegnamento e noi vediamo ci sono dei ragazzi specialmente in questo spettacolo che se io proprio mezz'ora fa c'era chi mi diceva ma te lo ricordi il tale com'era quando è arrivato cioè non si riusciva a trasformato trasformato questo per carità non è solo il lavoro del teatro è il lavoro della scuola è il lavoro della famiglia è il lavoro che ognuno fa su di sé però il teatro dà una bella aiuta bene allora in bocca al lupo per il vostro scappati di casa viva il lupo e a questo punto ci vediamo lo spettacolo certo scappiamo anche noi in quinta grazie a tutti grazie a tutti